Il Parlamento è il Parlamento che ha concentrato nella propria attività in tutti i settori strategici delle riforme più importanti, molte sono state licenziate dal Parlamento e quindi non sono leggi, altre stanno in via di risoluzioni, c'è stata una funzione per esempio del tema della propria attività, qualche cosa l'abbiamo fatto, qualche cosa andrà fatta nei prossimi mesi. La riforma più importante, come sapete, ci saremo chiamati a fare il referendum per quella che ci succede.